Musica Si è svolto ieri presso il salotto comunale di Battipaglia l'incontro dibattito sul masterplan per lo sviluppo urbanistico territoriale della fascia costiera che da Salerno va ad Agropoli. Un piano che si pone l'obiettivo di realizzare uno sviluppo infrastrutturale omogeneo su tutto il territorio litorale attraverso un partenariato pubblico-privato e che coinvolge sei comuni per un totale di 295 mila abitanti. Se non si parla di riqualificazione della fascia costiera e di rilancio, io non andiamo da nessuna parte. Sono convinta che questo territorio da qui a qualche anno, se non si lavora sodo, avrà un cambio completamente di volto. Per quanto riguarda l'aria industriale, l'aria ZES, molto per il campo dell'agricoltura, molto hanno fatto i nostri imprenditori, ma ora bisogna puntare alla riqualificazione della fascia costiera. In una crisi economica noi pensiamo che l'economia del territorio può sicuramente avere uno slancio favorevole riqualificando la fascia costiera. E' tanto che parliamo di master plan, ma noi ci accingiamo la settimana prossima ad affidare al professionista il PUC, che questa città si aspetta dal 72. Bisogna partire. Voglio ringraziare i distretti che hanno molto stimolato questi incontri e quindi per la prima volta noi abbiamo sindaci, abbiamo imprenditori, abbiamo coinvolto oggi. E abbiamo Destrasiele, insomma la regione, la provincia, tutto ciò che ci vuole per riprendere un vecchio discorso che era partito già negli anni 90, il progetto Costa del Siele. E oggi si riparte qui, all'epoca il coordinatore era l'architetto Gian Paolo Lambiasi e ancora oggi noi approfittiamo della sua esperienza nel settore ed è, voi sapete benissimo, un delegato personale perché puntiamo molto su questo territorio. Riqualificare vuol dire ripartire anche dal problema della depurazione del mare, è una cerniera tra le due coste bellissime della costiera amalfitana e cilentana, però noi abbiamo lo spazio che loro non hanno. Quindi se tu metti in percorso gli agriturismi, i territori, quello che ti può offrire, pianifichi, quali sono le infrastrutture che servono per andare avanti, quindi coinvolgere il consorzio Destrasiele perché lì abbiamo anche il problema dell'idrovora che è un po' di rompe. Insomma bisogna puntare, ne abbiamo detto 50.000 volte, è ora di rimboccarsi le maniche e partire, ma partire bene. La parola d'ordine è collaborazione fra comuni. Collaborazione tra comuni, tra privati, tra regione, tra provincia e consorzio. Penso che sia arrivato, diciamo che i tempi sono maturi, forse 20 anni fa c'era una visione diversa, oggi sono maturi perché tutti in una crisi economica che ci attanaglia, tutti i comuni penso che abbiano individuato nella fascia costiera, dipende che cosa tu vuoi. Non è che il mordi e fuggi, vengo a mare, me ne vado a casa e mi porto la merendina. La zona deve vivere H24 e tutti i 12 mesi dell'anno, quindi ci devi creare movimento, così elimini prostituzione, fai lavoro, induci giovani a venire nei locali, insomma rendi un mare pulito, la gente viene qui, non staziona più di un giorno, bisogna crederci. Io penso che questa costa con una mentalità nordica, non me ne vogliate, ma insomma nel senso nordica, nel senso avere la capacità e finalmente diciamo che oggi gli imprenditori del sud non hanno niente da invidiare a quelli del nord, si bisogna avere la capacità di crederci, di andare avanti e questa terra, questo angolo è bellissimo e si può fare. E di lì la metropolitana leggera, l'aeroporto, piccole porti, porticcioli, percorsi all'interno del fiume, insomma si può fare tanto, bisogna crederci, ognuno deve fare il suo lavoro. Voglio ringraziare i miei clienti e le istituzioni che sono qui presenti oggi sul nostro invito, ho visto e ringrazio in modo particolare il dito Vito, il dirigente del servizio urbanistico della provincia di Salerno, il sindaco di Ponte Cagnano, proprio perché ovviamente ci apprezziamo a fare un racconto di area vasta, quindi è importante la collaborazione concreta tra territori. Sindaco, quando si parla di fascia costiera non si può non parlare di sinergia con gli altri comuni? Sì, assolutamente, soprattutto nel nostro caso, per quella che è la nostra fascia costiera, è necessario fare un ragionamento vasto, quindi avere una visione che parta anche da mettere in rete, da un dialogo costante e continuo con i comuni limitrofi. Su questo c'è davvero una grande disponibilità della sindaca di Battivaia, del sindaco di Eboli, di tutti gli altri colleghi sindaci e quindi sono convinto e sicuro che si potrà impostare con loro un grande lavoro e con disponibilità e collaborazione. L'hai incontrato anche i cittadini della Litoranea, quali sono le azioni che si possono mettere in campo sul breve periodo per risolvere alcune criticità che affliggono quel territorio da tempo? Noi nel breve periodo possiamo fare molto, sicuramente queste azioni che abbiamo già messo in campo non possono cambiare radicalmente quella fascia costiera, quella zona, quindi ci sono delle azioni da attuare nel medio-lungo periodo, però nel breve sicuramente c'è necessità di intensificare il più possibile l'azione rivolta alla sicurezza, quindi anche chiedendo una collaborazione maggiore e più efficiente alle forze dell'ordine. Abbiamo fatto un'ordinanza sulla prostituzione, quindi con un'azione forte e decisa da parte della Polizia Municipale, facciamo spesso anche delle operazioni in borghese e in più abbiamo delle telecamere trappola nascoste per ridurre il più possibile il problema storico delle micro discariche abusive. Quindi queste sono le azioni che già stiamo portando avanti, che stiamo mettendo in campo e che già ci danno dei buoni risultati. L'interlocuzione con gli altri comuni a che punto è? No, l'interlocuzione è molto, molto positiva. C'è una disponibilità assoluta da parte mia e il riscontro è importante ed secondo me sarà decisivo per quella che è la programmazione generale di tutto il nostro territorio. Gian Paolo Lambiase, da anni si parla di sviluppo della fascia costiera, forse questo è il momento buono? Spero che sia il momento buono perché tra l'altro c'è materiali in abbondanza, analisi, studi di fattibilità, concorsi di idee sull'area. Quello che è necessario fare a mio parere è in particolare fare in modo che si mettano d'accordo tutti quanti i comuni e si produca un progetto unico per tutta l'area, l'area che va da Salerno fino ad Agropoli. Fino ad oggi forse si è lavorato a pezzi distanti tra di loro, in alcuni casi addirittura ogni comune ha realizzato il suo progetto per esempio per la rete fognaria o la rete viaria credo che la direzione giusta è proprio quella di mettersi assieme, di coordinare un progetto unico per vedere, di utilizzare al meglio anche le risorse che pare che la regione voglia mettere in campo per la riqualificazione di tutta la litoriana di Salerno. Salerno in questo senso che ruolo può recitare? Salerno, Salerno città, comune capoluogo, può avere un ruolo importante anche perché tra l'altro è in procinto il comune di Salerno, l'amministrazione comunale di rivedere totalmente il piano regolatore il suo vecchio piano regolatore che fu approvato dieci anni fa. Ma se la revisione, il nuovo piano regolatore guarda anche al di là dei confini, cosa che credo si debba fare in questi casi, può collegarsi anche con proposte e con progetti sicuramente significativi per la riqualificazione di tutta la fascia litoriana fino ad Agropoli. Sindaco, si parla di sviluppo della fascia costiera, quanto è importante il rapporto e la collaborazione fra i comuni che insistono sulla fascia costiera a sud di Salerno? È fondamentale, è fondamentale perché partiamo innanzitutto da un protocollo di intesa stipulato circa due anni fa, se non sbaglio, con il comune capoluogo, il comune di Salerno, insieme al comune di Eboli, di Ponte Cagnano, di Battipaglia, di Capaccio e di Agropoli e che ha l'obiettivo appunto diciamo di pianificare tutta la fascia costiera e di accedere anche una volta per tutte a questi finanziamenti che fino a ora non sono mai arrivati. A questo dobbiamo aggiungere anche un'altra necessità che occorre, una pianificazione urbanistica che tenga conto di un ufficio di piano sovracomunale, come ho detto più di una volta, che mette insieme i tecnici delle sei amministrazioni comunali che hanno aderito a questo protocollo di intesa e che insieme si faccia una pianificazione condivisa. Questo è fondamentale. Poi nella condivisione della pianificazione dobbiamo individuare le differenze di interventi e quindi anche una certa eterogeneità debba servire appunto anche a valutare questo. Però occorre ora andare avanti e non fermarsi soltanto diciamo alle presentazioni ufficiali ma cercare di dare riscontro serio a quello che è una pianificazione che noi amministrazioni comunali in sinergia stiamo mettendo in campo. Secondo lei stavolta può essere la volta buona? Io me lo auguro. Noi stiamo facendo la nostra parte come pubbliche amministrazioni e come enti comunali. Mi auguro che lo faccia anche la Regione Campania e che ci sia a fianco come Finador ha dimostrato. Noi stiamo facendo la nostra parte come pubblica.